Panella croccante con ripieno di salsicce e frierelli. L'impasto lo lavoriamo in un recipiente. Vado a miscelare farina di semola rimacinata e una farina di tipo 1, potete utilizzare anche una miscela di altre farine. Aggiungo il sale e mescolo un po'. Sbriciolo il lievito di birra fresco, in sostituzione potete utilizzare quello disidratato. E per completare aggiungo l'acqua e lavoro con una forchetta. Appena la farina avrà assorbito tutta l'acqua lo possiamo lavorare giusto un po' con le mani, anche se risulterà un po' appiccicoso. A fine lavorazione facciamo delle pieghe portando l'impasto verso l'interno. Copriamo e lasciamo lievitare. L'alternativa ideale sarebbe quella di far maturare l'impasto in frigo per tutta la notte. Oppure lo lasciamo semplicemente lievitare fino al radduppio. Nel frattempo puliamo i frierelli, ricaviamo le foglie più tenere, le sciacquiamo, le scoliamo e poi le saltiamo in padella con aglio, olio e peperoncino. E una volta cotti li lasciamo raffreddare prima di aggiungerli all'impasto. Io ho tenuto l'impasto in frigo, adesso lo lascio a temperatura ambiente per circa un'ora prima di procedere con la preparazione. Trascorsa un'ora versiamo della farina di semola rimacinata su un piano di lavoro. Trasferiamo l'impasto. E gli diamo un bel giro di pieghe. Non trascurate questo passaggio, ci servirà per avere una bella lievitazione. Copriamo con lo stesso contenitore e lo lasciamo riposare per mezz'ora, ma anche di più. Finalmente ci siamo, è arrivato il momento di farcire. Aggiungiamo ai friarielli una buona scamorzo oppure provolama asciutta e della salsiccia. Ora trasferiamo la pagnotta nello stampo e mettiamo sul fondo un bel po' di semola rimacinata. Mettiamo della semola anche in superficie, poi copriamo e lasciamo lievitare fino al raddoppio. Adesso andiamo ad infornare. Per la cottura bisogna tenere lo stampo coperto. Potete utilizzare un foglio di carta di alluminio oppure un coperchio se previsto dal vostro stampo. Partibile Grazie a tutti